Abbiamo adesso dell'Anonimo sul Sublime, è un trattato intitolato nel codice parisino greco 2036 per i Upsus. Questo testo è tramandato, sempre nel codice già nominato, sotto il nome di un certo Dionisio o Longino. In realtà ancora oggi è risultato impossibile identificare l'autore, che non può essere né Dionisio dell'Icarnasso, come qualcuno ha tentato di stabilire per questioni ideologiche proprio contenute all'interno dell'opera, né tantomeno Cassio Longino per una questione di cronologia. Infatti la critica tende comunque a collocare questo autore nel primo secolo d.C., comunque non oltre, perché l'opera è proprio una polemica che lui instaura con Cecilio di Calatte, che aveva affrontato l'argomento del Sublime in una sua opera. E noi sappiamo che Cecilio di Calatte era attivo a Roma in età augustea o presumibilmente tiberiana, quindi fino all'età di Tiberio. In ogni caso, alla fine della parte che noi possediamo di questo trattato sul Sublime, viene affrontato il tema della decadenza dell'oratoria, che è un tema in vigore proprio nel primo secolo, come già abbiamo visto a Roma, per esempio nel romanzo pedroniano, oppure in autori come Quintiliano e Tacito. Cos'è il Sublime? Il Sublime viene definito da questo anonimo in opposizione a quanto aveva fatto Cecilio di Calatte, che parlava del Sublime come il risultato dell'applicazione di una casistica regolamentata. Cecilio di Calatte era un retore di fede articista e scrisse molte opere, di cui noi abbiamo titoli, in cui proprio contrappone lo stile attico e lo stile siano e si scaglia contro l'asianesimo. Nello scritto sul Sublime aveva fatto rientrare in questa categoria retorica elementi tecnici, come la disposizione delle parole, la scelta del lessico, l'uso delle figure retoriche. Questa sua idea viene contrastata proprio dall'anonimo, che comunque da qualcuno viene chiamato Pseudo Longino, quindi c'è anche questo nome utilizzato magari in alcuni testi di letteratura. Quindi secondo il nostro anonimo, il Sublime è una sorta di eccellenza suprema del linguaggio, Iupsegoria. La parola è composta da Iupsos, che è appunto altezza, solennità, sublimità, è la radice che troviamo anche in allegoria, quindi appartiene al verbo agoreuo, che è il verbo del dire, quindi la suprema eccellenza del linguaggio, che sia capace di incidere fortemente sull'animo del pubblico, che viene quindi condotto all'estasi. L'estasi significa l'ecstasis, quindi l'uscire fuori da se stessi. Il Sublime è definito anche risonanza con una grande anima, Megalofrosiones apekema, però questo lo vediamo meglio più avanti. A questo punto viene spontanea forse la domanda di cosa non sia sublime, e nei capitoli 3 e 4 l'anonimo ci parla proprio del non sublime o sublime mancato. Chiaramente questi sono gli esempi più eclatanti, poi ci saranno anche dei confronti che l'autore fa tra poeti che secondo lui hanno raggiunto il sublime e poeti invece imperfetti. Comunque, gli elementi che sicuramente non sono sublimi sono uno stile gonfio, to oidun, questo verbo ha la stessa radice dell'aggettivo oidos che c'è nel nome edipo, piede gonfio. Quindi lo stile gonfio, che toglie il linguaggio e la forza drammatica, lo stile adolescenziale, to meira chiodes, che è pedante e faticoso, e il parentirso, to parentirson, che denuncia un entusiasmo e un potetismo che possono risultare fuori luogo. Il sublime ha delle fonti. L'anonimo ne individua cinque. Due di queste sono innate. La prima e la più importante è la capacità di grandi concezioni, che lui definisce to peritas noeseis adrepebelon, e in un altro passo to megalofiues. La seconda è una disposizione d'animo violenta e ispirata, to sfodron cai entusiasticon patos. Le altre tre sono frutto di studio. La terza è una particolare costruzione delle figure di parole e pensiero, etepoia ton schematon plasis. La quarta uno stile nobile, cioè scelta delle parole ed elocuzione ornata attraverso l'uso dei tropi, egennaia frasis. La quinta è la disposizione delle parole solenne ed elevata, e enaxiomati cai di arsei siuntesis. In che relazione stanno queste fonti, queste pegai del sublime? Le tre fonti acquisite costituiscono semplice sussidio alle fonti naturali. Da sole non bastano, quindi la grandezza non si raggiunge senza la perfezione innata. Chi è privo delle doti naturali, quindi, non è in grado di raggiungere il sublime. Allo stesso tempo, chi ha le doti naturali ed è degno di ammirazione per aver ricercato la massima grandezza, deve essere perdonato se a volte commette qualche scivolone. E qui l'anonimo parla ampiamente di come la grandezza imperfetta sia migliore della mediocrità impeccabile, e lo fa nel capitolo 32, paragrafi 7 e 8 e anche paragrafo 33. In particolare c'è la polemica con Cecilio in relazione alla qualità superiore, secondo Cecilio, di Lisia rispetto a Platone. E a questo proposito l'anonimo dice Io so bene che gli ingegni straordinari non sono privi di difetti. Infatti, mentre la minuziosa precisione rischia di essere meschina, nelle grandi opere è inevitabile che vi sia pure qualche cosa di poco valore. Probabilmente è necessario che gli ingegni piccoli o mediocri, proprio perché non osano rischiare tendendo alla vetta, generalmente si tengano lontani da errori, mentre la grandezza è per se stessa rischiosa. Successivamente, nel paragrafo 33, invece, fa un confronto tra autori Pindaro e Bacchiglide, per esempio, Sofocle e Ione di Chio, Omero e Apollonio Rodio. E dice Certo, Apollonio, nelle argonautiche, è un poeta incensurabile, tranne pochi dettagli, ma non preferiresti essere Omero piuttosto che Apollonio? Nella lirica preferiresti essere Bacchiglide piuttosto che Pindaro? Nella tragedia Ione di Chio oppure Sofocle? Gli uni sono incensurabili e dovunque elegantemente ricercati, mentre Pindaro e Sofocle sembra che bruciano tutto con il loro impeto, ma spesso si esauriscono improvvisamente e cadono nel modo più infelice. Però nessuno che abbia un po' di senno scambierebbe il solo edipo re con tutti quelli di Ione di Chio messo in fila. Cecilio nella sua opera sul sublime aveva dimenticato, diciamo, di inserire la passione, il patos, tra le fonti del sublime. L'anonimo pensa invece, cioè pensa che questa cosa sia avvenuta per due ragioni. O perché Cecilio considerava patetico e sublime la stessa cosa e quindi l'errore è stato grave, insomma, che lui ha fatto, perché non basta che ci siano le passioni perché ci sia la sublimità, non sono la stessa cosa. Infatti, dice l'anonimo, ad esempio, piagnistei, dolore, paura, sono passioni mediocri, ben lontane dalla sublimità. E dall'altra parte, dicevi, sono molti momenti sublimi senza passione. L'altra possibilità è che Cecilio abbia dimenticato di parlare del patos perché pensava che il patetico non contribuisse al sublime. E anche qui, secondo l'anonimo, si è completamente ingannato. L'anonimo, infatti, dice, non esiterei affermare che nulla contribuisce alla grandezza dell'espressione quanto una nobile passione al momento opportuno, come se una divina follia e un'ispirazione esaltata animassero le parole, quasi riempiendole del soffio divino di Febbo. Quindi nulla contribuisce alla grandezza dell'espressione quanto la nobile passione al momento opportuno. L'anonimo attribuisce anche al Tome Galofiues il ruolo più importante tra le fonti del sublime. Quindi il patetico è indispensabile, ma il ruolo più importante spetta alla grandezza delle concezioni. Sostiene, infatti, che la poesia sublime abbia il compito di elevare le anime alla grandezza e renderle gravide di nobile slancio. Il modo per raggiungere questo obiettivo è creare l'empatia con il fruitore, poiché il sublime, come abbiamo già detto, è la risonanza con una grande anima, quindi la megalofrosiones apekema, La grandezza di concezioni si può realizzare anche in assenza di parole. Infatti, dice l'anonimo, il nudo pensiero sa suscitare ammirazione per la grandezza naturale, psile, cateuten e ennoia, dieuto, to megalofron. Ad esempio, il silenzio di Aiace nella Nekioia è iupseloteron, cioè più grandioso e sublime, di qualunque altro discorso. Fa riferimento al libro 11 dell'Olissea, quindi la Nekioia di Odisseo, la ricesa agli inferi, quando incontra Iace, gli chiede se prova ancora rancore verso di lui per l'assegnazione delle armi di Achille. Per tutta risposta, Iace si volta e scompare nel silenzio tra le altre ombre e sono i versi da 543 a 564 del libro 11 dell'Olissea. Il pathos è talmente importante, secondo l'anonimo, chiaramente il pathos sfodron caie entusiasticon che lui ha considerato come seconda fonte del sublime, che prevale sul topitanon, quindi sull'effetto persuasivo, e anche sull'accumulazione e l'audacia delle metafore. L'anonimo afferma che ciò che è straordinario non conduce gli uomini alla persuasione, ma all'estasi, è che ciò che meraviglia, tramite lo stupore, prevale sempre su ciò che persuade e anche su ciò che provoca piacere. Questo perché ciò che persuade dipende per lo più da noi. Ciò che meraviglia sovrasta completamente l'ascoltatore, conferendo al discorso un potere e una forza invincibili. E questa cosa è importante perché ciò che persuade dipende per lo più da noi, quindi è qualcosa che agisce sull'individuo a livello razionale. Ciò che meraviglia, invece, è qualcosa che ci sovrasta, ci travolge, e quindi ci trascina. Ed è quell'aspetto psicagogico, quindi, che ha il sublime di condurre le anime in una direzione. Le passioni opportune e vehementi costituiscono un antidoto all'eccesso o all'audacia delle metafore, nel momento che la partecipazione all'entusiasmo dell'oratore impedisce all'ascoltatore di tenerne conto. Quindi qui viene sottolineata la capacità che ha il pathos di far dimenticare all'ascoltatore che viene travolto l'aspetto retorico, cioè neanche se ne accorge. Le vie che conducono al sublime. Quindi, oltre ad esserci delle pegai, quindi delle fonti, ci sono anche delle aretai, delle virtù, o delle odoi, vie, tendenti al sublime. Queste vie, appunto, sono la siuntesis tonagron, quindi la capacità di sintetizzare gli aspetti più importanti, la auxesis, quindi l'accumulazione, e la mimesis, la capacità di riprodurre la realtà. Nelle ultime righe del capitolo 14, laddove appunto parla di queste aretai, l'anonimo annovera anche la fantasia e la grandezza d'animo, le mette accanto all'emulazione e le considera cause efficienti dei pensieri sublimi. E lì poi si sofferma sull'aspetto, ecco, della fantasia. La fantasia, dunque, non è una fonte del sublime, perché le cinque fonti le abbiamo già indicate, ma è un sussidio alle fonti innate, alle due fonti innate. Comunemente si chiama fantasia tutto ciò che presenta alla mente un pensiero, che in un modo qualsiasi produca parola. Il pensiero nel testo è ennoema e parola è logu. Ma il nome è divenuto corrente anche nei casi in cui ciò che dici sotto la spinta dell'entusiasmo e della passione ti sembra di vederlo. Quindi otan alegeis up entusiasmu caipatus blepein dokes e lo poni sotto gli occhi degli ascoltatori. Quindi dai evidenza a quello che dici. Gli dai, tecnicamente si dice enargeia. L'anonimo differenzia l'uso della fantasia nel discorso oratorio da quello nella poesia. E questo è un tema presente anche in quintiliano. Come diciamo in altre autorie era presente anche la bipartizione degli aspetti. Quello innato per esempio è l'ingenium e quello invece aggiunto frutto di lavoro è l'ars. Ma questo discorso l'aveva fatto Aristotele ma anche a Roma Orazio nell'Arsa Poetica e Quintiliano nell'istituzio oratorio. Quintiliano proprio riprende questa differenza tra fantasia del discorso oratorio e fantasia del discorso poetico. D'altro canto non ti sfuggirà che altro vuole la fantasia oratoria altro quella dei poeti. Nè che nel caso della poesia il fine totelos è lo stupore ec plexis mentre quello della prosa è l'evidenza tes den logois enargeia. Qui diciamo ci ricolleghiamo all'aspetto del persuasivo e invece della della pervasività ecco della della poesia sublime e della capacità invece persuasiva quindi del topi tenon della della prosa e della della scrittura diciamo oratoria. Ecco l'anonimo del sublime è anche colui che ci ha tramandato l'ode di Saffo chiamata per l'appunto l'ode del sublime e l'ha inserita nell'ambito della critica letteraria e degli esempi paradigmatici di sublime laddove dopo aver indicato le fonti e le vie cercava di spiegare quali fossero altri elementi capaci di generare il sublime di contribuire ecco al sublime e tra questi c'è la necessità di utilizzare nel creare immagini gli elementi essenziali di un discorso ma anche nel saperli intrecciare tra di loro e in modo da formare un unico organismo quindi poiché in ogni cosa per natura ci sono degli elementi consustanziali ne consegue che ci si darà spunto per il sublime se sceglieremo sempre i più opportuni tra gli elementi via via riportati e per di più se attraverso la loro reciproca connessione saremo in grado di creare per così dire un solo organismo l'ascoltatore viene trascinato da un lato con la scelta delle idee dall'altro attraverso la stretta connessione degli elementi selezionati così fa Saffo le passioni che accompagnano il delirio amoroso essa le ricava volta per volta dagli effetti collaterali e dall'evidenza stessa ma dove essa dimostra la sua bravura lo fa quando ha la capacità di scegliere i più elevati e i più attesi di quegli effetti e a connetterli tra di loro e dell'ode ho selezionato soltanto la parte in cui la sintomatologia d'amore viene descritta questo fin dentro il petto sconvolge il mio cuore appena ti guardo la voce mi viene meno mi si spezza la lingua sottile e improvviso il fuoco mi corre sotto la pelle con gli occhi non vedo più nulla gli orecchi mi rombano mi cole il sudore un tremito mi prende tutta e sono più palida dell'erba già quasi vicino a morire senza respiro io sembro e il commento dell'anonimo è questo non provi meraviglia come in una sola volta essa vada ricercando l'anima sua il corpo l'udito la lingua gli occhi la pelle quasi fosse a lei estranea e dispersa ogni parte che in una sequenza di opposizioni essa geli e nel contempo bruci sragioni e recuperi il senno infatti è sempre dall'angoscia e poco manca che sia morta il modo che non una sola passione traspare in lei ma un accavallarsi di passioni tutti i fatti come questi capitano a chi ama ma la scelta degli elementi più incisivi e la loro riunione in un meresimo quadro ha realizzato l'eccezionale quindi la sublimità di Saffo quella che diciamo ha concesso a noi di conoscere ecco la bellezza di quest'ode e di poterne rintracciare in questa i vari riferimenti di altri poeti successivi è determinata proprio dalla capacità della poetessa di selezionare elementi fondamentali e metterli insieme creando un'immagine unica un'immagine un'immagine Grazie a tutti